Un saluto e ben ritrovati dalla redazione del Tg della Mobilità. Con il ritorno in servizio di tre convoglie MA200 da questa mattina, sono sei i treni che viaggiano lungo la tratta della Roma Lido, attiva da lunedì al venerdì, ovvero tra Colombo ed Eormagliana. Tra Eormagliana e Piramide, lo ricordiamo in alternativa, è possibile utilizzare la linea B della metropolitana. Cantieri in città in via del Trullo proseguono i lavori sulla rete del gas. La strada è chiusa al traffico in direzione di via Portuense, nel tratto che va da via di Monte Cucco a via Licciana Nardi. Per quel che riguarda il trasporto pubblico, sono deviate su percorsi alternativi sei linee di bus, compresa la notturna N719. I dettagli su romamobilità.it Grazie a tutti.